Nella suggestiva cornice naturale della località di Berceto, in provincia di Parma, il prestigioso hotel e ristorante Berset metterà a vostra disposizione tutta la professionalità del suo staff ed uno scenario accogliente e attrezzato per il vostro giorno speciale. La sala interna è ampia ed elegante, allestita secondo i vostri gusti e modulabile secondo le vostre necessità. Accoglierà i vostri invitati in un'atmosfera da sogno. Il grande giardino che circonda la struttura sarà lo scenario perfetto per allestire un ricevimento in grande stile, avendo a disposizione comode strutture all'ombra dei gazebo, godendo del magnifico scenario naturale della struttura. Nei suoi spazi esterni sarà inoltre possibile organizzare la vostra cerimonia nuziale per pronunciare le vostre promesse d'amore circondati da una scenografia da favola. Il vostro buffet, così come ogni dettaglio del vostro ricevimento, sarà curato con attenzione dal team di professionisti di Berset Wedding & Events. Grazie ai consigli e alla collaborazione di questi specialisti, potrete allestire una festa coi fiocchi, garantendo ai vostri invitati dell'ottima musica, proposte gastronomiche irresistibili e un intrattenimento ad hoc, il tutto avvolto da una suggestiva atmosfera, creata da allestimenti e decorazioni in perfetta sintonia con il vostro stile.